Musica Su Change.org la petizione è avviata da Chiara Fornara per l'ospedale nuovo unico baricentrico nel VCO Paolo Marchioni potrebbe non candidarsi alle elezioni omegnesi e quanto il sindaco uscente teorizza dopo l'annuncio leghista Caso scarpinato il sindaco Marchionini replica centro civico ma lascia aperta la porta del dialogo Nuovo look per le sale espositive della fabbrica di Villa Dossola sono state ritinteggiate interventi anche su foyer fondale del parco In tutto il VCO celebrato il 10 febbraio a Domo il Comune ha annunciato che Piazza Foib sarà riqualificata Una buona serata dalla redazione di VCO Notizie In apertura di giornale parliamo della petizione online attivata da Chiara Fornara su Change.org Per chiedere l'ospedale unico, nuovo e baricentrico nel Verbano Cusi-Ossola VCO diciamo sia l'ospedale nuovo, unico, baricentrico E' il titolo della petizione lanciata oggi su Change.org da Chiara Fornara, direttrice del CIS Verbano La raccolta firma è diretta al governatore Cirio e ai sindaci dei tre principali centri del VCO Silvia Marchionini, Paolo Marchioni e Lucio Pizzi A metà pomeriggio erano già più di 130 i sottoscrittori Nelle motivazioni che accompagnano la petizione, che ha iniziato a circolare anche via WhatsApp Sotto alcune immagini relative al progetto del nuovo ospedale La promotrice spiega L'organizzazione sanitaria ospedaliera del VCO non potrà reggere nei prossimi anni La sfida di una sanità moderna fatta di integrazione specialistica e alta professionalizzazione Mancano i professionisti e le strutture moderne di cura I costi dell'attuale organizzazione ospedaliera non sono sostenibili a lungo Chiediamo che gli amministratori locali e regionali non litighino più e decidano insieme dove costruire l'ospedale nuovo, unico e baricentrico del Verbano Cusiossola Altrimenti, conclude Fornara, tutto il territorio sarà perdente e sarà più difficile avere una sanità pubblica di qualità ed efficiente Diversi i commenti in calce che avvallano questa posizione Abbiamo chiesto a Fornara le motivazioni che l'hanno spinta a questa iniziativa Intrapresa come libera cittadina, precisa, quasi di impulso Dopo aver letto un dossier sulla situazione sanitaria nazionale che mi ha fatto riflettere e venire i brividi Cita ad esempio la carenza di 350.000 infermieri in Italia a fronte di scuole che ne preparano 17.000 all'anno Questo ci dà il segno di quello che mancherà a breve, prosegue Fornara Non c'è più tempo per fare troppi ragionamenti, il sistema collasserà e perderemo tutti Questo dovrebbe spingere gli amministratori a trovare una soluzione Fornara spiega anche la decisione di attivare la petizione con il voler dare voce a una maggioranza silenziosa di cittadini che sostengono la nascita di un ospedale nuovo, efficiente e baricentrico per superare l'attuale frammentazione ed accorpare personale competenze Vi abbiamo già detto del terremoto politico interno al centro-destra con la Lega che ha anticipato la candidatura di Marchioni a sindaco della città di Omenia e le prossime amministrative Intanto ieri sera c'è stato un incontro di coalizione assente il partito di Giorgia Meloni ma la vera novità sta nel fatto che Marchioni potrebbe non accettare la ricandidatura Chi pensa che la partita interna al centro-destra per le amministrative di Omenia sia chiusa dopo il comunicato di ieri della Lega che annunciava la candidatura di Paolo Marchioni con il successivo benestare anche da parte della parlamentare di Forza Italia Mirella Cristina è decisamente fuori strada perché è il diretto interessato che alla fine potrebbe salutare la compagnia più rissosa che allegra Fratelli d'Italia ha già annunciato che con Marchioni candidato andrà la sola ed anche la lista civica Omenia nel cuore ha più di qualche dubbio e così con un moto d'orgoglio è proprio Marchioni a smarcarsi con un passo indietro che dalle sue parole sembra evidente non è affatto sicuro spiega che accetti di candidarmi anzi se vogliamo dirla tutta le possibilità che questo avvenga sono molto basse non sono la seconda scelta non mi voglio sentire sopportato da nessuno ho una mia dignità e me la tengo stretta il suo sfogo comunicato in mattinata a chi gli è vicino e poi espresso a chi scrive parole che avranno un ovvio ed immediato riflesso e che rimettono tutto in discussione perché con Marchioni deciso a lasciare bisognerà capire cosa faranno a quel punto Lega e Forza Italia che rischierebbero di doversi accodare a quanto deciso da Fratelli d'Italia E a Verbagna non si placa il dibattito interno alla maggioranza dopo il caso Scarpinato in provincia oggi a prendere posizione il sindaco Una convivenza che ora si preannuncia difficile è quella tra i gruppi che compongono la maggioranza attuale a Verbagna lo confermano le parole del sindaco Silvia Marchionini che ha voluto rispondere al comunicato di ieri dei consiglieri di centro civico Lucio Scarpinato e Massimo Ronchi in particolare avevano chiarito di non aver gradito di essere tacciati di trasformismo per la scelta di sostenere in maggioranza il presidente della provincia lana sottolineo ribatte Marchionini che chi viene eletto in una compagine per un candidato e dopo 50 giorni assume una delega con l'altro candidato se non lo si vuole chiamare trasformismo chiamiamolo cambio casacca e prosegue forse bastava al momento della candidatura comunicare che era un'opzione possibile in non saperlo in tanti maggioranza abbiamo votato Scarpinato con l'obiettivo comune di migliorare il governo in provincia ha reso sul piano dei rapporti anche personali più complicata la convivenza di questa alleanza civica con la componente prevalente del Partito Democratico e questo dispiace perché in quasi tre anni vi è stata una collaborazione schietta e utile alla città conclude la prima cittadina che evidentemente vuole mettere la parola a fine alla polemica la mia porta è aperta sempre per il confronto nell'interesse della città sulla base degli impegni presi ritengo che sia tempo di lasciare da parte i comunicati, messaggi e ripristinare un produttivo dialogo ciascuno con le proprie posizioni e sulla questione si registra pure un documento a firma del capogruppo PD a Palazzo Flame Raffaele Allevi e del segretario cittadino Marco Magni non ci faremo sottrarre energie da inutili polemiche imbastite per giustificare scelte prese dalla lista centrocivico senza condivisione in assoluto contrasto con le precedenti dicono Allevi e Magni parlano di un massimo impegno nella pianificazione del progetto del bando di rigenerazione urbana saremo impegnati, concludono nella ricerca di nuovi bandi per l'efficientamento energetico degli edifici pubblici delle scuole nel recupero di edifici storici in tutte e in tutte le opportunità che il PNRR potrà ancora riservare E' approdata oggi in Commissione Ambiente a Montecitorio la questione relativa alla nuova sperimentazione del livello del Lago Maggiore Alberto Gusmeroli, deputato della Lega, è il primo firmatario di un'interrogazione sul tema gli ha risposto la sottosegretaria Ilaria Fontana del Ministero della Transizione Ecologica ribadendo quanto già noto rispetto agli accordi internazionali sulla sperimentazione ma assicurando il coinvolgimento degli enti locali al tavolo che dovrà prendere la decisione finale I comuni del Lago sono allarmati per l'eventuale superamento di ulteriori 25 centimetri del livello di regolazione dell'acqua tarato a 1,25 metri dalla precedente sperimentazione ma la delibera su tale punto non sembra molto chiara Per i comuni le attività di porti, spiagge, attività di alberghi, ristoranti e campeggio è fondamentale avere nel periodo estivo un livello dell'acqua che permetta la frequentazione turistica delle spiagge e degli attracchi di una zona che da sempre rappresenta un importante centro di attrazione del nord Se il Ministro intende adottare iniziative per chiarire i livelli possibili di innalzamento del Lago Maggiore stabiliti dalla delibera dell'autorità di bacino distrittuale del fiume Po e a quali condizioni si potrà superare il livello della precedente sperimentazione a 1,25 che vede giustamente tutti i comuni del Lago Maggiore preoccupati e se nella fase applicativa della deliberazione sarà possibile per i comuni lacustri o una sua rappresentanza partecipare al processo decisionale essere ascoltati e avere un confronto costante, periodico sull'applicazione pratica della delibera della medesima autorità in modo che si contemperino tutte le necessità cioè non manchi acqua in pianura ma al contempo non si dannecino le attività turistico lacuali Coronavirus, il bollettino, in Piemonte c'è stato un calo di 86 ricoverati Covid 3 in terapia intensiva e 83 negli altri reparti nei dati diffusi oggi dall'unità di crisi della regione in diminuzione anche i morti, 10 di cui un caso relativo a oggi e i contagi 4.027 il totale dei ricoverati in terapia intensiva scende a 99 nei reparti ordinari a 1.794 le persone in isolamento domiciliare sono meno di 78.000 intensificati i controlli dei carabinieri sulle piste da sci Continua l'attività dei carabinieri sciatori della compagnia di Domodossola sulle piste del VCO i militari sono impegnati nel controllo ma anche nei soccorsi come accaduto nei giorni scorsi nel comprensorio scistico di San Domenico a Varzo insieme a personale del soccorso alpino delle piste sono intervenuti per un 17enne proveniente dal milanese che è caduto mentre praticava snowboard il giovane ha riportato un trauma facciale, una lesione alla spalla destra si è reso necessario un intervento in pista dell'elicottero del 118 che ha trasportato l'infortunato all'ospedale di Novara per le cure del caso in un'altra occasione gli uomini dell'arma hanno prestato soccorso e garantito la sicurezza delle operazioni dei sanitari per un altro giovane che si è infortunato alla gamba ed è stato trasportato in ambulanza all'ospedale di Domodossola Continuano intanto i controlli a tutti gli impianti sciistici ossolani dall'usentino alla piana di Vigezzo i carabinieri hanno verificato il green pass degli sciatori rispetto della normativa, ricordano a tal proposito che quando si scia valgono le stesse regole sul consumo di alcol previste per la guida dei veicoli dal codice della strada Andiamo a Villa Dossola, ritinteggiate le sale espositive al primo piano della fabbrica un intervento in un comune che vuole guardare sempre più alla cultura anche se sulla struttura pesa il rincaro delle bollette Nuovo look per le sale espositive interne al primo piano della fabbrica di Villa Dossola le pareti sono state tinteggiate con diversi colori come avete lavorato e perché questa scelta? La scelta è dovuta a dei colloqui che noi abbiamo fatto con delle persone che sono molto pratiche di sale espositive e loro ci hanno spiegato che in diverse sale adottano un discorso cromatico diverso rispetto al classico bianco e questo l'abbiamo fatto perché innanzitutto dopo 20 anni mi sembra che era giusto dare una rinfrescata a queste sale ma soprattutto perché crediamo che questa sala di sopra della fabbrica sia diventata molto importante importante perché ce lo chiedono, ce lo dicono tutti con tutte queste mostre che noi stiamo organizzando e vogliamo che le persone si trovino a loro agio e dare come posso dire una visione diversa di questa sala che sia non solo un luogo asettico tutto bianco dove esporre le proprie opere ma che diano come posso dire con questi vari colori un impatto cromatico diverso Nello spazio dedicato anche alle conferenze è stato ricavato un ampio rettangolo che può ospitare delle proiezioni un investimento totale di circa 20.000 euro con l'intervento anche sul foyer una ritinteggiatura e la ritinteggiatura del fondale nero del teatro ma che cosa c'è nel futuro di queste sale qui al primo piano? Ma nel futuro di queste sale al primo piano è la continuazione come posso dire dei progetti che abbiamo portato avanti sempre di dare la possibilità agli artisti locali e non locali di poter esporre le proprie opere dando la possibilità di avere la sala in modo gratuito Il teatro, la fabbrica nella sua completezza resta un punto di riferimento per l'ossola nell'ambito della cultura ma come questa realtà oggi fa i conti con il caro Bollette che già prima comunque incideva in modo importante sul vostro bilancio? Sì, allora l'energia è più che raddoppiata in tutti i campi lo sappiamo tutti i comuni sono molto in difficoltà su questa cosa la speranza è che comunque qualcosa di intervento diciamo dai vari ministeri ci possa essere ma sicuramente penso che ci sia però chiaramente noi non possiamo esimerci da far funzionare questa struttura perché io sono convinto che questa struttura se dovesse essere chiusa sarebbe la morte di Villa Dossola 10 febbraio il giorno del ricordo a Verbagna cerimonia Intra quest'anno con una novità per la prima volta era presente una rappresentanza di studenti di tutte le scuole superiori della città una partecipazione organizzata in collaborazione con l'ufficio scolastico provinciale Verbagna si è dato appuntamento alle 10.30 di questa mattina al vecchio imbarcadero di Intra per la commemorazione del giorno del ricordo da qui si è incamminato il corteo che ha sfilato sul lungolago sino ad arrivare al parco Cavallotti gli onori ai labari presenti seguito dall'Inno d'Italia hanno aperto le celebrazioni il giorno del ricordo a Verbagna ed è sempre un momento particolarmente sentito qui è nato e opera da tempo il comitato 10 febbraio Fabio Volpe, il suo presidente dal microfono posto sul lungolago ha introdotto la cerimonia ed è stato Francesco Sirtori vicepresidente del Sodalizio nel corso della celebrazione a deporre un mazzo di fiori davanti alla targa commemorativa che ricorda i tragici eventi legati alle foibe e agli esuli istriani e dalmati alla cerimonia ha portato il saluto della provincia il presidente Alessandro Lana i comuni bene o male adesso ci sono manifestazioni questa mattinata e quindi questo è importante ed è importante perché le giornate del ricordo la giornata della memoria il 25 aprile devono essere delle giornate di unità Maria Canale ex insegnante delle scuole superiori della città ricercatrice e storica per passione nonché membro del Consiglio nazionale donne italiane ha tenuto l'orazione ufficiale ha parlato davanti a molti studenti ricordando l'importanza del momento commemorativo affinché non si perda la memoria perché ciò che è successo è stato detto nel corso della mattinata non solo non venga dimenticato ma sia di monito ogni giorno pochi giorni fa proprio i vertici del comitato 10 febbraio del VCO hanno comunicato come a livello provinciale stia crescendo il numero di comuni aderenti al progetto un ricordo per norma Premeno, Cannero, Domodossola solo per fare qualche esempio e il giorno del ricordo è stato celebrato anche a Omenia l'amministrazione comunale guidata dal sindaco Marchioni con l'assessore ai lavori pubblici Stefano Strada si è recato al monumento posto sul lungo lago e qui è stato deposto un mazzo di fiori un momento di ricordo perché simili eventi non debbano più accadere il commento del primo cittadino e ora andiamo a Domodossola questo è stato il primo giorno del ricordo celebrato nella nuova piazza dedicata alle foibe piazza che nel prossimo futuro sarà anche oggetto di riqualificazione per valorizzare la memoria storica del luogo Il significato di giornate come queste per chi è nata a fiume? È un ricordo che è doveroso, dovuto e che è sentito veramente perché tu ti accorgi che pur essendo cresciuta nell'ossola io sono venuta qui nel 1947 a sette anni quindi quest'anno e le radici non sono tutte qua hai una parte che comunque ti chiama nella terra dove tu sei nata e pur essendo stata bambina nell'epoca dei fatti raccontati ho ancora dei ricordi vivissimi soprattutto nella sofferenza che hanno avuto i miei i nostri genitori noi eravamo tre figlie tre bambine e quindi mi porto dentro veramente oltre ai ricordi belli dell'infanzia trascorsa là ma la sofferenza poi che i miei genitori hanno portato avanti per tutta la vita qui nell'ossola Lei ha lasciato questa piazza con un messaggio qual è stato? l'idea di lasciare sempre spazio alla verità avere il coraggio della verità in tutte le circostanze può essere doloroso ma alla fine è sempre costruttivo sulle foibe però è difficile trovare una voce univoca sulla ricostruzione di quegli eventi ancora oggi dopo che sono passati tanti anni è vero perché purtroppo c'è ancora molta ideologia e l'ideologia è spesso nemica della verità ma anche delle persone uno dei temi che ho toccato è proprio questo che quando noi sottomettiamo le persone a altre cose istituzioni, ideologie, teorie finiamo per creare un regime totalitario che è sempre pericoloso Sindaco lei ha annunciato che quest'area cambierà volto e sarà un ricordo per Norma Cossetto un nome simbolo della tragedia delle foibe Sì, l'area verrà completamente riqualificata l'amministrazione come sapete ha deciso di spostare l'area che ricorda gli eventi tragici delle foibe in questa zona che abbiamo ritenuto più adeguata rispetto alla zona precedente l'area verrà completamente riqualificata adesso siamo alla fase del progetto preliminare e verrà posta anche una targa ricordo di Norma Cossetto Anche Arona ha celebrato il giorno del ricordo nel largo dirimpetto al palazzo municipale che porta il nome delle foibe il Sindaco Federico Monti con gli assessori Monia Mazza tra l'altro rappresentante anche della provincia di Novara Marina Grassani e alcuni consiglieri comunali hanno presenziato la cerimonia con il gonfalone della città e i rappresentanti di Carabinieri e Polizia Locale non dobbiamo dimenticare quanto è accaduto nella penisola d'Almata ancora oggi nel mondo si percepisce l'odio e imperversano le guerre dobbiamo portare avanti un segnale di distensione e pace ha detto il primo cittadino e siamo allo spazio del giovedì con Donare per Crescere in collaborazione con Fondazione Comunitaria VCO facciamo il punto sui progetti che sono stati attivati grazie al Fondo Povertà che è stato istituito a fine 2020 i progetti sono 5 con un investimento di 200 mila euro Nel corso del 2021 grazie al Fondo Povertà abbiamo attivato 5 reti di progetto che si svolgono a livello territoriale la prima iniziativa è riferita al mondo dei giovani i minori ed è gestita dall'associazione 21 marzo di Verbagna ha l'obiettivo appunto di sostenere nello studio i giovani minori ma anche fornire un supporto psicologico creare degli spazi di aggregazione di ricreazione di socializzazione che sono venuti meno in questi anni l'obiettivo del progetto è anche quella di estendere laddove necessario questi servizi alla rete genitoriale e alla rete familiare sempre in ambito giovanile ricordo l'esperienza e il progetto articolo più uno VCO di cui si è parlato alla fine dell'anno è stato lanciato a ottobre 2021 riguarda un'iniziativa molto importante di respiro provinciale è nata grazie alla sinergia di un gruppo di fondazioni la promotrice di questo progetto è stata Fondazione Buon Lavoro la comunitaria ha partecipato economicamente al progetto ma anche Fondazione Degostini e soprattutto Fondazione Compagnia di San Paolo che già aveva attivato questo progetto sia su Torino che su Genova l'obiettivo è quello di migliorare potenziare le capacità le competenze e la formazione dei giovani NIT però giovani entro i 35 anni cioè quei giovani che non studiano e non lavorano e quindi non hanno una collocazione né nel mondo della didattica dello studio ma appunto neanche nel mondo del lavoro altri due progetti importanti invece si sono attivati su Omegna e su Verbagna questa volta una risposta all'emergenza alimentare ma anche sostegno nel pagamento delle bollette sostegno allo studio quindi famiglie particolarmente bisognose e indigenti anche qui si è trattato di una rete di enti questo è un elemento fondamentale su Omegna abbiamo avuto la collaborazione delle reti delle sedi Caritas in collaborazione con l'associazione San Vincenzo dei Paoli mentre su Omegna su Verbagna scusate si è trattato dell'emporio dei legami che è una realtà ormai molto conosciuta che racchiude in sé una serie di associazioni che operano appunto a sostegno dell'indigenza e collabora a questo progetto anche l'associazione Centro Aiuti alla Vita anche qui un progetto biennale l'ultima iniziativa è il progetto Teniamoci Insieme riferito al quartiere Sassonia sempre a Verbagna un quartiere che ha manifestato una serie di criticità di tipo relazionale assenza di servizi ma anche di bisogni semplici del tipo di autonomia ma anche di necessità digitali ad esempio per questo sono stati attivati delle sorti dei servizi di prossimità ad esempio per sostenere le persone e gli utenti nella gestione di alcune pratiche magari informatiche prenotazione di esami sanitari piuttosto che attivazione di speed ma anche attività anche questo senso di laboratorio di socializzazione di attività ricreative presso Casa Ceretti e presso la sede dell'Emporio dei Legami Siamo alla pagina sportiva tutta dedicata agli sporti invernali con le anticipazioni di Spazio Neve la trasmissione a cura di Gianluca Trentini che è in onda su VCO Azzurra TV il giovedì alle 21.05 e ancora il venerdì alle 14.30 e il sabato alle 18.00 Leve ce n'è sempre poca ma Spazio Neve non manca e sarà una puntata davvero bella tutta dedicata allo Sciclub Macuñaga uno dei club importanti del nostro Circo Bianco Paolo Schranza allenatore sarà nostro ospite ciao Paolo ciao a tutti Barbara che invece Barbara Pivanti che invece allena i più piccoli quindi dei miei cuccioli buonasera e poi avremo Andrea Schranza che invece lui è il campione vincitore ha vinto un'indicativa di recente si piazza sempre quindi insomma ci racconterà ci racconterà tutto ciao a tutti mi raccomando Spazio Neve noi ci siamo anche voi ci sarete vi aspettiamo e con Spazio Neve e gli amici dello Sciclub di Macuñaga si chiude questa edizione del nostro telegiornale per tutti gli aggiornamenti vi ricordo il nostro sito internet vcoazzurratv.it e anche le nostre pagine social vi ricordo sempre per gli aggiornamenti anche il nostro telegiornale flash nel corso del pomeriggio di domani grazie per essere stati in nostra compagnia e buona continuazione di serata con i nostri programmi